Dovranno rispondere dei reati di incendio e combustione illecita di rifiuti. Un 48enne e due 51enni sorpresi dai carabinieri nelle campagne di Trinitapoli mentre bruciavano materiale plastico di varia natura dal quale si sollevava una folta coltre di fumo nero. Alla vista dei militari, i tre uomini hanno tentato di spegnere rapidamente l'incendio rovesciando della terra sui rifiuti in fiamme. A bruciare, secondo una prima ricognizione, erano buste, tubature idriche e altro materiale proveniente dai lavori di rifacimento della rete fognaria. Le indagini dei militari proseguiranno per fare ulteriore chiarezza sull'episodio. L'area dell'incendio è stata posta sotto sequestro e i tre uomini colti in flagranza denunciati a piede libero.